L'ipocrisia uccide le persone e arriva persino a strappare l'anima di un individuo. Nella messa mattutina a Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato ancora una volta sul tema dell'ipocrisia, precisando quali sono gli strumenti che usa per seminare divisione nelle comunità. L'ipocrita quindi è un adulatore che distorce la realtà con il linguaggio dell'inganno. Dinanzi a questo atteggiamento, che opera anche tanto male all'interno della Chiesa, il pontefice ha ricordato che l'ipocrisia non è il linguaggio di Gesù e quindi un vero cristiano non può essere ipocrita. L'ipocrita è capace di uccidere una comunità. Sta parlando dolcemente, sta giudicando bruttamente una persona. L'ipocrita è un uccisore. Ricordiamo questo. Incomincia con l'adulazione. Soltanto se risponde con la realtà. Non mi vengo con queste storie. La realtà è questa. Come con l'ideologia. Questa è la realtà. Alla fine è lo stesso linguaggio del diavolo che semina quella lingua bifida nelle comunità per distruggerla. chiediamo al Signore che ci custodisca per non cadere in questo vizio dell'ipocrisia. del truccarci l'atteggiamento ma con cattive intenzioni. D'acqua. 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 Grazie a tutti.